Io amo i videogiochi. Da quando memoria sono cresciuto con i videogiochi, essi sono stati parte importantissima della mia vita. Potrei anche dire, non sono esagerato, che in parte l'hanno salvata. Perché? All'età di otto anni mi venne diagnosticata una brutta malattia ormonale. Al di là dei problemi fisici, medici che essa mi causò, portò me stesso verso un isolamento sociale. Questo sono io. Sostanzialmente in pochissimo tempo acquisì quasi 100 kg. Arrivai a pesare 96 kg per un metro e cinquanta di altezza, totale blocco dello sviluppo. Questo fu molto pesante in un periodo qual è quello dell'adolescenza già di per sé particolare e mi portò verso un progressivo isolamento sociale. Cosa accadde? Che i videogiochi rimasero il mio migliore nonché unico amico e io mi ci rifugiai, spendendo tantissime e tantissime ore per tanti anni della mia vita. Però non voglio ovviamente parlarvi solo dell'aspetto triste, ma per me è stata un'esperienza comunque positiva. Perché ho potuto giocare? Giocando ho potuto imparare. I videogiochi hanno influenzato realmente la mia vita. Giocando prodotti come Civilization ho imparato la storia, mi sono avvicinato alla passione per l'antichità e questo ha influenzato la mia vita reale. Ho studiato liceo classico, poi ho studiato archeologia. Che cosa ho fatto? Dall'età di dieci anni guido delle macchine velocissime e costosissime e ho fatto dei calcoli. oggi probabilmente ho guidato, anzi sicuramente ho guidato più nella vita virtuale che in quella reale. Che cosa ho fatto anche nei videogiochi? Ho avuto un grande vantaggio. Ho potuto salvare centinaia e centinaia di principesse in qualità di un eroe altissimo, slanciato, ricevendo come ricompensa dei caldi baci da queste principesse. Ovviamente non sono, e questa non è solo la mia vita, ma milioni di persone stanno crescendo o sono già cresciute insieme ai videogiochi compiendo delle avventure straordinarie che furono preclusi alle generazioni precedenti. Ovviamente voi non dovete pensare che io sia l'unico, una persona sociale che è cresciuta al chiuso della propria cameretta, lo stereotipo del nerd che videogioca come tutti noi immaginiamo coloro che videogioca. Ormai i videogiochi sono una cosa per tutti. Il 90% dei ragazzi in età scolare attualmente sta utilizzando i videogiochi. Il 44% delle donne utilizza i videogiochi, quindi andiamo a sfatare questo luogo comune del videogioco, luogo per soli uomini. Un altro dato molto interessante, il filone è maggiormente in crescita attualmente, quindi il segmento di mercato maggiormente in crescita nei videogiochi è composto dalle donne over 50. Tra il 2012 e il 2013 sono cresciute del 32%. Ovviamente queste donne non giocano su console ma utilizzeranno i telefonini, gli smartphone, l'online, Facebook. Sono passati 30 anni da quella prima foto che vi feci vedere durante una comunione, che tra l'altro è l'unica foto che esiste di me tra gli 8 e 20 anni. Le cancellai tutte, le strappai tutte perché ancora oggi ovviamente quel problema porta degli strascichi, quando passo dinanzi a uno specchio chiudo istintivamente gli occhi. Però quello che ho avuto la fortuna di fare è trasformare quella che era stata la mia più grande passione nel mio lavoro. In questi 30 anni ho lavorato con alcune delle più grandi aziende al mondo dei videogiochi, Electronic Arts, Vivendi, Namco, ho lavorato a Tetris, a Pacman, a FIFA, a Sims. E quello che ancora oggi mi sorprende è la grandissima capacità che i videogiochi hanno avuto è di evolversi in soli 40 anni. Sono diventati l'industria principale dell'intrattenimento. Fatturano quasi 100 miliardi di dollari in un solo anno, molto più della musica, molto più del cinema, molto più dell'editoria, ma più dei numeri, quello che ancora oggi mi ammalia, in parte ne sono ancora soggiogato, è la straordinaria capacità che i videogiochi hanno di generare emozioni. Guardiamo questa foto, ma è una a caso, ne avrei potuto prendere migliaia. Nell'atto di videogiocare ciascuno di noi prova delle emozioni, vedete i loro volti, emozioni che possono essere le più diversificate, cooperazione, competizione, gioia, paura, frustrazione, rabbia, e tutto questo non è causale. Persone come me, coloro che disegnano la sceneggiatura dei videogiochi, i cosiddetti game designer, volutamente creano queste continue tensioni emotive, allo scopo di tenere incollate le persone allo schermo. E questo è un modo per poi guidare i comportamenti delle persone, non solo all'interno dei videogiochi, ma anche all'esterno. Vi faccio un esempio di un aneddoto, parlando con un creatore di un altro gioco, un gioco che era stato molto famoso a cavallo del 2010 su Facebook, era chiamato un gioco di nome Pet Society, tra l'altro questo ragazzo poi è diventato ricchissimo perché ha venduto la sua società, una società, alla società americana dove io lavoravo, per 400 milioni di dollari. Fatto questo inciso, che cosa è successo? Durante le festività natalizie, le persone iniziarono a comprare degli addobbi natalizi virtuali per abbellire le proprie case virtuali. Ora, già questo vi sembrerebbe un segnale di un mondo che sta impazzendo, di un mondo totalmente fuori controllo, cioè persone che tirano fuori dei soldi reali per comprare abbellimenti virtuali. Ma perché succedeva tutto questo? Andando a parlare con i giocatori, facendo delle indagini di mercato, che cosa è emerso? Le persone che dicevano, io ho quasi smesso di comprare gli addobbi natalizi nella mia casa reale, perché nella mia casa reale le avrebbero viste solo 10, 20, 30 persone, la ristretta cerchia di amici che durante le festività entra a casa mia. Se io invece spendo qualche euro nella mia casa virtuale, questa casa sarà vista da centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone, perché c'è molta più probabilità di essere viste e quindi ha molto più senso che io spenda questi soldi. Quindi questo è il potere anche manipolatorio a volte che i videogiochi possono avere. Ora vi porto tre casi per chiudere, di come i videogiochi possono essere anche una cosa terribilmente seria, non solo utilizzabile per divertire, intrattenere le persone, ma anche per aggredire e risolvere problemi reali. Voi penserete che sia uno scherzo, ma in realtà uno dei prossimi premi Nobel per la medicina potrebbe essere un giocatore. Che cosa sta succedendo senza che molti di noi lo sanno? L'Università di Washington ha creato una piattaforma online chiamata Foldit. Quotidianamente centinaia di migliaia di persone provano a sintetizzare delle proteine all'interno di un'interfaccia che assomiglia a una sorta di Tetris 3D e stanno contribuendo realmente a risolvere dei problemi legati a malattie come l'Ebola e come l'AIDS. Laddove gli scienziati, laddove i supercalcolatori stanno fallendo, il potere collettivo delle persone che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse mentali, la collaborazione, sta ottenendo risultati incredibili. Attualmente la giocatrice che è al vertice della classifica di Foldit è una persona normalissima, senza una laurea, è stata intervistata, di giorno fa la segretaria, un lavoro noiosissimo, ma poi quando ritorna a casa indossa i panni del supereroe e sta realmente risolvendo dei problemi. Ancora, in ambito urbano si parla tanto di come provare ad aggredire i tanti problemi della città del futuro, problemi legati alla sostenibilità. I videogiochi fanno una cosa, noi lo sapevamo ma semplicemente sperimentando nella creazione dei giochi, ora sono arrivati degli studi scientifici anche dell'Università di Stanford, che cosa ci dicono? Che quando una persona è rappresentata mediante un avatar, oppure quando una persona guarda il mondo attraverso una soggettiva in prima persona, e molti dei videogiochi ormai sono in prima persona, otteniamo degli effetti fisici reali, ovvero aumenta la conducibilità elettrica della pelle, aumenti del battito cardiaco. Quando questo si va creando, quando questa istanza si crea, noi ci leghiamo a un oggetto, al nostro avatar, al nostro gioco e quindi ci rimaniamo attaccati. Come sta sfruttando tutto questo la città di Bristol in Inghilterra? Ha praticamente reso animati tutte le componenti della città, le panchine, i lampioni, gli alberi, ognuno di essi ha un nome, tu puoi scrivere dei messaggi e questi oggetti ti rispondono, ti rispondono realmente, quindi tu crei un attaccamento con l'oggetto e qual è il risultato poi concreto? Il risultato concreto è che ci sono meno atti di vandalismo e le persone spontaneamente iniziano a prendersi cura degli oggetti, perché ci hanno attaccato un ricordo, le sentono loro. L'ultima, per chiudere, è un prodotto a cui sto lavorando, il tema è quello della malattia mentale, ci siamo detti, è un tema difficile, nessuno ne vuole sentire parlare. Le ASL falliscono nell'approcciare frontalmente i ragazzi, provando a spiegare loro cosa sia la malattia mentale. Che cosa stiamo facendo? Un gioco che tratta questo tema, questo gioco arriverà a centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, stiamo raccontando all'interno del gioco delle storie vere, all'interno di luoghi veri, le istituzioni manicomiali. Ora il video per concludere. F**k you, f**k you, cosa c'è? Violins, go away. I don't know, due shenanigans. Please don't be behind me, I don't want to die. Questo è il commento di alcune persone che stanno trovando a capire il gioco. Noi vogliamo ahhh. La mamma si occupava di Charlotte, la copriva, la abbracciava, la accarezzava, era molto affettuosa. La Charlotte non accadeva nulla di male e io mi stupivo, non capivo. All'inizio mi faceva quasi paura, temevo che mi volesse fare del male. Le aspettavo sempre il momento in cui la mamma l'avrebbe lasciata, perché io non meritavo di vivere, non meritavo di essere amata. Oh boy. Quindi concludo dicendo giocate, giocate, giocate.